Allora, io sono Mareike van der Madden, vengo dall'Olanda, però abito già da quasi 40 anni in Italia, di quale 35 a Calcata. Io sono arrivata a Calcata tramite amici, perché non conoscevo Calcata. E mi dicevano, guarda c'è un piccolo borgo mediovale, è tutto a misura delle tue figure, perché io costruisco le marionette e le figure. Poi sono venuta a vedere questo piccolo borgo, mi è piaciuto molto, ho fatto la mostra qui e poi sono rimasta. Allora, questa è facile. Poi tutte le figure, modello come un impasto di legno, sono tutte modellate a mano. Poi le figure che sono più come sculture, hanno un fil di ferro dentro il corpo di stoffa, che poi vengono vestite. Lavoro su ordinazioni, ho lavorato tanto nelle scuole internazionali, anche nei festival internazionali di teatro. Però adesso, negli ultimi anni, sto qui a Calcata, perché anche 25 anni fa ho costruito con il mio compagno, Mimo Mallarby. Abbiamo fondato il centro culturale Il Granarone, abbiamo restaurato l'antico granaio del borgo da 1750, 75 credo. Allora, lì abbiamo organizzato per 25 anni mostre, concerti, teatro, corsi internazionali di arte, tantissimi concerti veramente. Hanno suonato da noi tantissimi musicisti di tanti tipi diversi di musica, che dal grande orchestra regionale del Lazio, con cui abbiamo iniziato 25 anni fa, della musica moderna, elettronica, la musica antica, la musica classica, popolare. Cioè, c'è tutta una storia di musicisti al Granarone, che poi la faccio vedere. Guarda, qui ho trovato, qui questo cd, questo è un musicista, che è stato per tanti anni qui, si chiama Angela Blu, Angelo Blu, che mi dispiace che non c'è più. Lui era un bravissimo armonicista, e per quello l'ho trovato proprio adesso, e lo volevo far vedere, perché è importante anche che la gente si ricordano nella storia della musica di Calcata, che c'è anche lui. Qui siamo arrivati nell'antico granaio del Borgo, questo è stato sempre il granaio del Borgo, per tutte le persone che vivevano qui, perché prima la valata era tutta seminata con il grano. Poi l'hanno portato qui, e poi quando è stato abbandonato per più di 50 anni, perché le persone di Calcata dovevano andare via, è stato abbandonato, qui era tutto rotto, tutto il tetto sfondato, tutto. Ok, sono andata in giro a trovare uno sponsor privato in 1994, e ho trovato lo sponsor, ho trovato anche i soldi, e noi, mio compagno e io, con due professionisti, l'abbiamo restaurato in un anno. E poi abbiamo fondato il centro culturale Il Granarone, e lì, in questi 25 anni, abbiamo organizzato tante mostre, concerti, tantissimi, teatro, presentazioni di libri, corsi internazionali di arte, ma anche i concerti erano molto apprezzati, perché tanti musicisti piacevano venire qui a suonare da noi. Anche all'inizio non c'era un pianoforte a mezza coda, e quando passavano i musicisti hanno detto, ah, ma che peccato che non c'è un pianoforte. Allora, alla fine mio compagno, Mimo Malarbi, ha detto, ok, me lo compro io, ma voi lo potete utilizzare. Così ho detto, va bene, se poi entra un po' di soldi, almeno piano piano ti lo posso ripagare, ma questo non è mai stato, non è mai successo, perché la cultura costa. Però, tutti i tipi di musicisti arrivavano qui, dalla musica antica, jazz, orchestre, varie, cori. Allora, c'era veramente un posto speciale per i musicisti. E' peccato adesso, da un paio di anni, che noi siamo usciti fuori come associazione culturale, e speriamo che i concerti possano continuare, perché è un posto molto ammirato da tutti i musicisti. No, no, questo è il locale, è delle province. Grazie.